In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi dal campo e andiamo verso di Lui, portando la sua ignominia, perché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Gesù, in order to santify the people through his own blood, endured his sufferings also outside city gate. Let us also now go to him outside the people's camp, and there share in his degradation, for we have no lasting city in this life, and so we look for one in the life to come. Gesù, per consagrare il popolo con sua propria sangue, morì fuori della muraglia. Salgiamo, poi, a encontrarlo fuori del campamento, cargati con suo proprio, che qui non abbiamo una città permanente, andiamo in busca di la futura. Por su medio, ofrezcamos continuamente a Dio un sacrificio di alabanza. Miserere nostri, domine. Miserere nostri. Prima stazione. Qui Gesù è condannato a morte. Adoramus te Christe et benedici mustibi. Allora Pilato rilasciò Barabba. Gesù, invece, lo fece flagellare. Poi lo consegnò perché fosse crocifisso. Prima stazione. Qui Gesù è condannato a morte. Poi Pilato rilasciò Barabas a loro, ma ho sento a Gesù floggiato e lo mandato a essere crocifato. Prima stazione. Qui Gesù è condannato a morte. Quindi Pilato le solto a Barabas, e a Gesù, dopo di mandarlo a Sotar, lo entregò per che lo crocifiqui. Pater noster, qui est in celis, santificetur nomen tuum, advegnat regnuntum, fiat volontas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, e benedictus fructus ventris tui, e benedictus fructus ventris tui, entre jesus santa maria madre di dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra morte amen hail mary full of grace the lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of thy own jesus ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus gloria patri et filio et spiritui sancto miserere nostri domine seconda stazione qui jesus è caricato della croce adoramus tecriste benedictus tibi presero dunque jesus il quale portando da se stesso la croce usci verso il luogo detto del cranio che in ebraico si chiama golgota seconda stazione qui jesus carga con la croce a cuestas entonces al fin pilato se lo entregò a los judíos para que lo crucificaran e con eso se hicieron cargo de jesus el llevando a cuesta su cruz salio para un lugar que chiamavano la calavera in arameo golgota seconda stazione qui jesus carries his croce so the soldiers took charge of jesus carrying his own cross he went out to the place of the skull cuicina ramaicis gol golgota pater noster qui est in celis santificet ur nomentum advegnat regnum tum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum cotidianunda nobis odie et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitibus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentazione sed libera nos amalu ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus o di tia nu non diap ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus dios te salve maria llena eres de gracia el señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesus santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte benedictus fructus ventris tui jesus santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hail mary full of grace the lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of their womb jesus hail mary full of grace the lord is with you blessed are you among women and blessed is the fruit of their womb jesus benedictus fructus ventris tui jesus santa maria madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maria grazia plena benedictus fructus ventris tui jesus et benedictus fructus ventris tui jesus gloria patria et filio et spiritui santo miserere nostri domine terza stazione qui jesus cade la prima volta adoramus te criste et benedicimus tibi ha portato i nostri affanni si è caricato dei nostri dolori tercera estazione aqui jesus cae por primera vez el soporto nuestros sufrimientos y aguanto nuestros dolores nosotros lo estimamos leproso herido de dios y humillado third station here jesus falls the first time and yet ours were the sufferings he bore ours the sorrows he carried pater noster qui est in celis santificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra sicut et nomenu sicut in licitius et nomenu ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tuin mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maria ma per te ora pro nobis pecatoribus Gloria a Patria e Filio e Spiritui Sancto. Miserere nostri, Domine. Quarta stazione. Qui Gesù incontra Maria Santissima. Adoramus Te Christe et benedicimus Tibi. Ecco, costui è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. È a segno di contraddizione. Anzi, a te una spada trapasserà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quarta stazione. Qui Gesù incontra Maria, sua madre. Simeone los bendijo e dice a Maria, sua madre, Mira, este está puesto para que todos en Israele caigan o se levanten. Será una bandera discutida, Mientras que a ti una spada te traspasará el corazón. Así quedará patente lo que todos piensan. Forza stazione. Here Jesus meets his mother. This child is destined to cause the fall and rise of many in Israel and to be a sign that will be spoken against so that the thoughts of many hearts will be revealed. Pater noster, qui est in celis, Santificetur nomen tuum, Advegnat regnum tuum, Fiat voluntas tua, Sicut in cielo et in terra, Panem nostrum cotidianum da nobis odie, Et dimite nobis debita nostra, Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, Et ne nos inducas in tentazione, Sed libera nos amalo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, Benedicta tu in mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Padre de lai, Glorie a Patria et Filio, Et Spiritui Sancto, Miserere nostri, Domine, Quinta stazione, Qui il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce, Adoramus tecriste, Et benedictus tibi, Qui a pe santa, Mentre lo conducevano via, Presero un certo Simone di Cirene, Che veniva dalla campagna, E lo caricarono della croce, Perchè la portasse dietro a Gesù. Quinta estazione, Qui il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce, Mentre lo conduciano, Echaron mano di un tal Simone di Cirene, Che volvia del campo, E le cargaron la croce, Perchè la portare 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 la croce, Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Hail Mary, full of Christ, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of Christ, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of Christ, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, mater dei, ora con nobis peccatorius, nunc e finora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicultera di principio et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Sesta stazione, qui la Veronica asciuga il volto a Gesù. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Qui a versanta milo e cento amore di mesi munghi. Non ha bellezza né decoro da attirare il nostro sguardo, né splendore da potercene con piacere. Disprezzato e respinto dagli uomini, uomo di dolori ed esperto nel patire, come uno dinanzi al quale ci si copre il volto, spregevole e di nessun conto per noi. Sesta stazione, here Veronica wipes the face of Jesus. Without majesty we saw him, no looks to attract our eyes, a thing despised and rejected by men. A man of sorrows and familiar with suffering. A man to make people screen their faces. He was despised and we took no account of him. Sexta estazione 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 Qui Gesù cade la seconda volta Adoramus te Christe et benedici mustibi E' stato trafitto per i nostri peccati Calpestato per le nostre iniquità Ricadde su di lui il castigo che si salva Per le sue piaghe siamo stati guariti Sexta estazione Sexta estazione Sexta estazione Sexta estazione Sexta estazione Sexta estazione Qui Gesù incontra le vie donne Adoramus te Christe et benedici mustibi Lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e pianto su di lui Ma rivolto verso di loro Sexta estazione 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 amén. Dio te salve, Maria, e in eres di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto di tua vita, Gesù. Sì, Maria, prego per noi, i pecatori. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Gesù. Santa Maria, madre bella, ora con noi, i pecatori, e benedictus nostri amén. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Santo. Sicurale di noi, Cipio e Nussegente, e in secolum secolum. Amén. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Decima stazione, qui Gesù è spogliato. Adoramus te Christe, et benedicimus Tibi. Cipio e Nussegente, e benedictus nostri amici. Presero le sue vesti, e ne fecero quattro parti, a ciascun soldato una parte, e presero anche la túnica. Decima stazione, a qui Gesù è despojato de sus vestiduras. Quando crucificaron a Gesù, los soldati repartieron su ropa in cuatro lotes, uno per a cada uno, dejando a parte la túnica. Era una túnica sin costura, tejida di una pieza di arriba a abajo. Los soldati se dijeron, mejor che dividirla in pedazos, la echaremos a suerte, a ver a quien le toca. Asi se cumplio la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Turned the station. Here Jesus is stripped off his garments. They took his clothes, dividing them into four shares, one for each of them, with their garment remaining. Pater noster, qui est in Cieli, santificetur nomen Tum, advegnat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pater noster, un porto di amma da novi sodio, e lini della novi servita nostra, siccite del nostri miti e un servitori bus nostris, per noi nostri in ducati in tentazione, sed libera la nostra madre. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc e dinora mortis nostre, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicurea in principio et nunc e centra, et in secula seculorum, Amen. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, undicesima stazione, qui Gesù è inchiodato in croce, adoramus Tecriste et benedicimus Tibi, qui ha persanto un croce in Tua bellissima. Egli somministravano del vino mirrato, che egli però non volle prendere, poi lo crocifiggono. undecima stazione, qui Gesù esclavado en la cruz, e le ofrecieron vino con mirra, pero el no lo tomo, lo crucificaron, era media mañana cuando lo crucificaron, en el letrero estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judios. Elevante station, Jesus is nailed to the cross. Then they offered him wine mixed with maio, but he did not take it, and they crucified him. pater noster qui est in cielis santificetur nomen tuum, at veniat regniun tuum, fiat volontas tua, sicut in cielo ed in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria a Patria et Filio et Spiritui Sancto, miserere nostri Domine, dodicesima stazione, qui Gesù muore sulla croce, adoramus te Christe et benedicimus Tibi. Era quasi l'ora sesta, quando si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona, poiché il sole si era eclissato, e il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle Tue mani rimetto il mio spirito. Ciò detto, spirò. Do decima stazione, qui Gesù muore nella croce, era già eso del mediodia quando si oscureciò il sole, e tutta la regione quedò in tinieblas hasta la media tardi. La cortina del santuario se rasgò por medio. Gesù gritò molto forte, Padre, a tus manos encomiendo mi spirito. E detto questo, expirò. 12th station, here Jesus dies on the cross. It was now about the sixth hour, and darkness came over the whole land until the ninth hour, for the sun stopped shining, and the cutting of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Pater noster, qui est in celis, santificetur nomentum, advegnat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amalo. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Tredicesima stazione. Qui Gesù è deposto dalla croce. Adoramus te Christe et benedici mustibi. I vera per santa e torcento anno e testi con il mondo. Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato di prelevare il corpo di Gesù. Pilato ha consentì. Décima tercera stazione. Qui Gesù è spazato dalla croce. Dopo di questo, Gesù di Arimatea, discipolo di Gesù, però clandestino per miedo a le autorità giudiche, le pidio a Pilato che le dejara quitar il corpo. Pilato lo autorizò. El fuè e quitò il corpo di Gesù. Thirteen, this station. Here Jesus is taken down from the cross. Later, Joseph of Arimatea asked Pilate for the body of Jesus. Pilate agreed. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii Ieve. A te suspiramus, Gementes et flentes, In a lacrimarum padre. Eia ergo, Advocata Nostra, E los tuos Misericordes oculos Ad nos converte. 不是 A tomexiliu Miserere nostri, Domine. Quattordicesima stazione. Qui Gesù è sepolto. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Essi presero il corpo di Gesù e l'avvolsero in panni, insieme con gli aromi, secondo il costume di seppellire usato dai giudei. Nel luogo dove Gesù era stato crocifisso c'era un orto, e in quest'orto un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato deposto. A motivo della preparazione dei giudei, qui deposero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Décima cuarta estazione. Qui Gesù è sepultato. Tomaron il corpo di Gesù e lo vendaron di arriba a abajo, mettendo le aromi, come acostumbraban a enterrarli i giudei. In il sitio dove lo crucificaron, aveva un huerto, e in il huerto un sepulcro nuovo, dove non avevano niente. Come per i giudei, era il giorno di preparazione, e il sepolcro aveva vicino. Pusero alli a Gesù. Pusero alli a Gesù. Here Jesus is laid in the tomb. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Pater noster, qui est in Cieli, santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et de nos in dudas, in tentazione, set libera nos, amado. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronotis peccatoribus, nunc et dimora mortis nostre. Amen. Gloria a Patria et Filio et Spiritui Sancto, si si pera d'in principio e nun per sempre, et in secula, seculorum. Amen. Miserere nostri, Domine. Miserere nostri. Non temete, lo so, voi cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come disse. Venite a vedere il luogo dove giaceva. No temais, ya se que buscais a Gesù il crocifisso. Non è qui, ha risuscitato, come ti ha detto. Venite a vedere il sitio dove giaceva. E, dopo, id a prisa a dire a Gesù il crocifisso, che ha risuscitato da la morte, e che va delante di loro a Galilea. Alli lo veran. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Preghiamo secondo l'intenzione del Sommo Pontefice Papa Francesco e di tutta la Chiesa. Pater noster, qui est in Cieli, santificetur nomen Tum, advegnat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ignora mortis nostre. Amen. Gloria a Patria et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Preghiamo per i benefattori di Terra Santa. Pater noster, qui est in Cieli, santificetur nomen Tum, advegnat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut er nos dimitimus debitoribus nostris, et benedictus fructus ventrassi. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Preghiamo perché possa finire presto questa pandemia. Pater noster, qui est in Cieli, santificetur nomen Tum, advegnat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in Cielo et in Terra. Pane nostrum cotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Madre Tei, ora por nobis peccatorius, nunc et dimora mortis nostre, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Dominus Vobiscus, benedictus Vobiscus, benedictus Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ave Regina Celorum, ave Domina Angelorum, Salve Radius, salve porta, ex qua mundo lux e sorta, gaude virgo gloriosa, super omne speciosa, vale o valde decora, et prono abis Christum ensora. Salve Radius, salve radios, primitimes open. Amin.